20.000 20.000 21.000 dalla prossima settimana riprenderemo per l'ottavo anno ottavo anno che siamo belle quindi con la trasmissione di Severi Maggiusti ci saremo tutti questa sera non sono potuti intervenire Cavazze e Onmi per impegni personali loro però abbiamo il buon Bomber buonasera Bomber buonasera a tutti stiamo arrivando addirittura d'arrivo con questa telenovela del mercato così domani sera andiamo tutti a vedere chi c'è e chi non c'è tutto qua bene 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 grazie Bomber, grazie del tuo supporto era solo un saluto però tu continuo a fare i cazzi tuoi scusa ma hai detto ho salutato, ormai in Leccefero mi parlero buonasera a Cerri buonasera ragazzi, buonasera a tutti ormai finalmente si inizia il campionato visto che questo mercato non voleva più finire invece finalmente stiamo arrivando all'inizio del campionato e sapremo finalmente che sarà il centro avanti e che saranno questi due terzini che tanto stiamo grazie al consiglio di Stato che iniziamo il campionato dopo che è finito il mercato se no iniziavamo prima perché hanno detto vai fermate il campionato fino al 25 e poi dopo vi diamo noi la risposta la risposta è stata uguale a prima basta esatto comunque vi dicevamo adesso pian piano si stanno collegando tutti non abbiamo sponsorizzato questa diretta qua perché abbiamo detto dai facciamo una diretta di mezz'ora un'ora poi sappiamo che tireremo avanti fino a mezzanotte ma anche no ma anche no c'è vanno i italiani che scalpita lì dietro lo vedo è dietro qua è dietro qua è dietro qua però allora diciamo una cosa intanto dalla prossima settimana parte l'ottavo anno di Severino Giusti noi siamo contentissimi e spero che anche voi siate contentissimi perché insomma è un modo per stare sempre collegati fra tifosi ed è una trasmissione che porta allegria e porta del sano divertimento oltre che a parlare di Reggiana che è il fulcro della trasmissione però vi stavo dicendo siamo molto contenti che io credo di parlare anche per Cerri ma dopo parlerà per lui sia la pagina di Face Regia che la pagina di Grado di Danata parlo per la mia e degli altri ragazzi che la gestiscono con me non vi abbiamo rotto i maroni quest'estate con e adesso chi viene oddio va via e arriva lui no arriva un altro è stata una delle state più è quasi è dietro questo dia guarda che quest'anno secondo me è stato diverso da tutti gli anni non so cosa cosa abbia portato a questa angoscia ma è stata una angoscia io sono andato in vacanza con la paura con la paura ma torno c'è la Reggiana no perché cazzo l'ho detto ma la Reggiana c'è ho mai avuto una squadra 16 giocatori di partenza avevamo quindi voglio dire esatto però siamo veramente orgogliosi di non aver fatto parte di quel circolo giustamente che i giornalisti scrivono perché devono scrivere però che anche alcune pagine eccetera hanno scritto e hanno tenuto sempre i tifosi sotto il torchio sotto la lente di ingrandimento per dire attenzione va via quello non arriva più nessuno a società non c'è più vanno via state calmi ragazzi ma andate in vacanza porca mignota andate in spiegazione che poi se andassero via voglio dire non potremmo farci niente quindi non è che puoi contestare dobbiamo solo ringraziare che ci sono che tira fuori i soldi quello è esatto quello che dobbiamo fare siamo partiti dalla base ringraziando a Madej Salerno Ficco Quintavalle e tutti i soci che poi c'è qualche genio che rompe le palle anche alla società forse si sono già scordati forse si sono già scordati quello che vedevano solo fino a 4 anni fa 3-4 anni fa onestamente no dico o non c'erano molto probabilmente non c'erano però qualche d'uno che fa dire cagate verso questa società secondo me non ne vale la pena diciamo che sulla comunicazione possiamo migliorare un po' se vogliamo mettere qualche puntino sulla i ma come io vi voglio dire come perché io da 24-25 adesso non mi ricordo da quanti anni in secola reggiana però io un'estate così caotica dopo aver fatto è vero abbiamo fallito l'obiettivo perché dovevamo vincere il campionato non l'abbiamo fatto siamo usciti in maniera scialba dai playoff è vero sciagurata sciagurata va bene ma come avete passato l'estate Bomber con tutte queste comunicazioni quello va via super tranquillo perché il Bomber si va di là no no sai perché super tranquillo perché io passavo ero abituato a passare le strade a dire ci iscriviamo o non ci iscriviamo ci iscriviamo o non ci iscriviamo perché era così arriva o non arriva quello facciamolo noi non è che dovevamo aspettare se accaddevamo un giocatore dovevamo aspettare di iscriverci al campionato spesso e volentieri quindi voglio dire infatti comunque al di là di io credo se posso dire che tutta questa polemica negatività non esista abbiamo quasi abbiamo soccato i 3.000 abbonati abbiamo è realtà togliamoci un attimo dall'interpretazione che secondo me è sbagliata dalla lettura dei social abbiamo già più di 3.000 abbonati e arriveremo a 4.000 quasi abbiamo la possibilità che quando entra nelle tribune c'è la standing ovation e la gente si sdraia per terra quando passa mi pare di capire nei social se fai un posto da leggere ci sono 400 like e 4-5 che fanno commenti negativi se poi i giornalisti devono fare un titolo sul giornale per uscire e prendono quei 4 commenti negativi che ci sono ma ci sono in tutte le piazze d'Italia è chiaro che poi si alimenta la negatività ma nella negatività la ghemia noi stiamo cioè al di là della tensione di alcuni messaggi su Facebook di quelle 15-20 persone su Facebook che hanno un'angoscia però Facebook ti fa vedere quelli lì ma dietro ci sono 3.000 persone che invece remano dalla stessa parte e la pensano come noi quindi dobbiamo imparare a leggere i social il bomber è tranquillo perché mi hanno confermato Diana infatti siamo andati via diciamo dalla fine del campionato dove anche noi siamo stati un po' polemici perché Diana non aveva salutato la curva eccetera tutto risolto perché Diana aveva detto non vi preoccupate chiedo scusa quindi per noi tutto risolto però non si capiva ancora se Diana dovesse venire confermato o no il bomber ha detto subito Diana assolutamente bomber ti hanno confermato il mister fa piacere adesso arriva Lusetti fa piacere perché dico semplicemente l'anno scorso mettila come vuoi ma abbiamo visto un calcio che non sempre abbiamo visto cioè voglio dire ci siamo divertiti e noi è innegabile è innegabile abbiamo battuto tutti i record voglio dire a un certo punto abbiamo fatto un campionato 86 punti cosa possiamo fare abbiamo trovato una squadra che ne ha fatti di più auguri basta complimenti a loro però voglio dire dire che era tutto tutto nero mi sembra esagerato mi sembra esagerato allora se si dice nero perché perché non è simpatico perché non risponde ai social perché non allora 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 buono allora se la mettiamo lì diciamo Diana risponde ai social così diventi un dio però secondo me il suo lavoro l'ha fatto poi dopo ripeto nessuno ti garantisce sì bisogna vedere sicuramente ho tanti e sei punti bisogna vedere quanto riesca a caricare in questi eventi le partite quello può essere un suo difetto però nel campionato all'arco del campionato non ci si può dire nulla allora prima di parlare un po' anche della conferenza stampa che c'è stata oggi dove è stato ribadito un'altra volta che Dumaron che non siamo arrivati a 5.000 abbonamenti ma dopo ne parlerò io avrei detto 10.000 io veramente di sta storia ma io voglio dire ma anche i giornalisti che penso che la domanda le abbia fatta Vainer Magnani Vainer ma perché dobbiamo fare queste domande che Dumaron ma non ne frego un polemizzare cioè non polemizziamo per queste cose qua ce ne abbiamo 3.000 cazzo ringraziamo i 3.000 che l'hanno fatto guardatevi le altre prezze ma si può arrivare a 4.000 tranquillamente ma ci arriveremo secondo me il numero fondamentalmente cioè poi dopo ci sta che si possa uno può anche dire proviamo ad arrivare a 5.000 non dico che ha fatto ha detto una cosa strana non lo faccio perché se non arrivi 5.000 gli ha fatto il Modena gli ha fatto il Modena in Serie B 5.000 tengo a precisare quindi fare 5.000 vuol dire che noi noi siamo arrivati in Serie C facciamo gli stessi abbonamenti di una squadra che è andata in Serie B non vedo la logica io però se me lo dite voi perché noi a Reggio avremmo dovuto fare 5.000 abbonamenti che gli ha fatto il Modena che è andato in Serie B a Foggia ho visto oggi un articolo però 5.000 dico si possono anche pensare di fare però voglio dire se non li fai basta io credo di conoscere abbastanza bene la piazza reggiana e l'entusiasmo è qualcosa che ne ho già detto anche l'altra volta è difficile da creare se tu vieni da un campionato negativo comunque è negativo perché non sei andato su è purtroppo emotivamente allora ripeto non siamo andati su per un play out non siamo andati su e ha fatto gol il portiere della squadra tua rivale assoluta ho capito allora non ragioniamo il discorso è l'entusiasmo inizialmente purtroppo non lo riesce a creare e non c'era questo grandissimo entusiasmo come c'era l'anno che siamo andati dalla D alla C come l'anno che è arrivato a piazza l'entusiasmo porta a fare lavoramenti anche l'anno scorso non c'era un grande entusiasmo abbiamo fatto un gran campionato quindi quando non c'è entusiasmo però le cose vanno benissimo cancelliamo le negatività noi qua perché non ci sono cose che vanno male e se solo escono i giornalisti e i giornali con cose negative che non esistono perché sono solamente commenti su Facebook una volta era quello nel bar nell'angolino che diceva la cazzata e gli dicevamo su la maggior parte dei tifosi è con la società siamo tutti contentissimi abbiamo fatto più di 3.000 abbonati ne faremo 4.000 andiamo alla grande e forza Regia 4.000 secondo me sono un bel numero secondo me siamo i secondi assoluti secondo me in Serie C a Foggia ne hanno fatti 3.000 ho visto prima un articolo a Foggia grande entusiasmo a Foggia 3.000 abbonati raggiunti ho letto lo ho condiviso a Foggia il giornale esce grande entusiasmo noi a Reggio 3.000 abbonati depressione a parte a Moderna ne hanno fatti 5.000 non so se è ancora chiusa la campagna di abbonamenti però non è che ci dobbiamo confrontare ne hanno fatti 5.600 penso 5.600 6.000 non so una cosa del genere però è per questo che noi diciamo a parte che c'è ancora tempo perché la Regiana ha prorogato di una settimana la campagna abbonamenti quindi devono arrivare gli ultimi acquisti che sono quelli che è un po' il mercato non è entusiasmato perché i giocatori ce li avevi già quindi non potevi dire ho comprato questo comparto l'altro io leggo qua quello che avevamo lo scorso anno praticamente ce ne sono rimasti 16 di quelli d'assette dello scorso anno l'ultimo periodo della squadra l'ultimo che ha venuto il campionato ci sono rimasti 16 hai dato via Zamparo che per me purtroppo è una cosa che è rinunciabile ovviamente e devi ancora subire quello lo prende i centramanti sicuramente lo riprende ho detto che lo prende lo prendono sarà Montalto probabilmente sembra comunque pare pare visto che abbiamo l'abbiamo già sentito noi Venturi che abbiamo fatto una chiamata tempo fa per fargli coraggio salutiamo Giacomo Venturi che poverino è il figato della Reggiana stessa è il simbolo assoluto è il simbolo della Reggiana io lo metterei lo metterei dentro il pallone dell'ottiletto lo metterei dentro una chica io lo metto dentro una chica lo metto grande Giacomo ti abbiamo sentito per telefono sempre il numero uno grande la puntata migliore dello scorso anno è stata quella con Venturi grande esatto quindi lo richiederemo lo invitiamo visto che adesso è a casa sarà presente tutte le puntate spero che lui rienti quanto prima perché poverino c'è veramente c'è una cosa è veramente sfortunato però Jack mi raccomando te l'abbiamo detto non ti preoccupare noi ti aspettiamo sei un grande e non ti preoccupare Bomber quindi l'estate tu l'hai vissuta bene tranquillo con tutti questi non ne ho preoccupato perché abbiamo una società con lo stesso budget e alla fine avremo una squadra che sarà tra quelle che punta l'unica preoccupazione è stata dare Zamparo a una squadra rivale e purtroppo sembra sia stato inevitabile viste le somme che giravano sia per lui che per la società però è un grosso rischio perché poi se Zamparo si conferma su quei numeri anche se a molti non piaceva a me ho sempre ripetuto che per la Serie C era un lusso e adesso speriamo di trovare tra l'altro è importante tra l'altro è un fenomeno lo sappiamo non è un fenomeno ma i fenomeni in Serie C non ci vengono lo vediamo anche adesso il problema è quello lì che dobbiamo studiarlo secondo me l'abbiamo dato sia chiaro hanno preso una cifra importantissima per la Serie C per esempio la Euro in Epoca ha fatto l'affare anche Zamparo che ne ha fatto un triennale importante quindi ha fatto bene Luca no ma sicuramente ha puntato i piedi non potevi tenerlo però darlo a Lentella sai darlo alla diretta concorrente è un po' però dico che secondo me Lentella sulla carta in casa aveva uno che è andato a giocare in B quindi non lo so se è migliorato per anche affiancarci alla Reggiana che tutti hanno detto ecco stanno svendendo tutti allora siamo chiari Goretti ha fatto questo discorso sono sempre quei puntualizziamo sono sempre quei dieci in Inter che dicono queste cose non è che dobbiamo focalizzarci su queste dieci nessuno pensa a questa cosa ci sono dieci persone che dicono queste stupidate esatto ci sono dieci che pensano ma sì quindi noi che conosciamo i giocatori la società poi fra di noi ci parliamo è successo questo Goretti cosa ha detto giustamente direttore sportivo signori entro cinque giorni che finisca il campionato ditemi se volete andare o volete restare perché io voglio fare una squadra con gente che vuole rimanere ed essere anche perché deve essere carica e sostituirvi esatto e poi ho anche il tempo per sostituirvi benissimo ha alzato la mano a Radrezza e l'hanno accontentato perché ha tappato la Reggiana non ci ha preso niente e Contessa tre o quattro giorni fa ha detto signore la Tourism mi offre qualcosina in più di stipendi è un anno in più io devo andare c'è un bimbo giustamente la società ha detto vai perché forse non lo so aveva anche altri progetti anche a 32 anche sta per dire si avvicina a casa sono finiti due anni si porta avanti il contratto centro campo comunque l'adrezza l'altro anno ha reso poco diciamocelo non è che ha fatto questo gran campionato l'adrezza abbiamo preso Nardi a centro campo siamo migliorati di una spanna rispetto all'altro anno diciamo questa cosa davanti punto interrogativo e a sinistra dobbiamo ancora prendere però a centro campo noi siamo meglio molti di queste cose qua sono dovute anche ai giocatori che ne hanno chiesto Zamparo ha chiesto giustamente per quello che riguarda lui un rinnovo lui voleva altri due anni con la cifra dello stipendio che andava a raddoppiare la Reggiana ha detto noi non possiamo ha trovato l'entella che gli dà oltre a quello che vuole i soldi per il cartellino in Serie C fidatevi che nessuno vi paga il cartellino di nessuno di nessuno quindi la Reggiana ha fatto quello che doveva fare se non ha 20 anni se non un 18enne un ventenne forte poi di altre cessioni a Righini quello che dicevano oggi andrà a Provercelli vuole andare dove chiaramente gioca e ha qualche obiettivo in più la Reggiana avrebbe fatto sicuramente il terzo il quattro ma non lo vuole trattenere neanche perché ha uno stipendio molto alto da prima punta e vuole prenderne un altro al suo posto che sarà credo ripeto Montalto che è quello che è uscito più spesso ultimamente che è uno che in Serie B è forte l'unico dubbio è la motivazione è uno che scende in Serie C a quei livelli ma è uno io ho letto anche lì la gente commenta come se avesse visto mille volte giocare al giocatore secondo me è uno in Serie B non ha fatto tanti gol in Serie B ma a me piace guardare i commenti delle altre tifoserie soprattutto quando i giocatori lasciano le piazze e se l'anno che siamo andati in B i giocatori che abbiamo preso tutti scrivono meno male che l'abbiamo dato via alla Reggiana perché non lo verrà nessuno quest'anno invece tutti che abbiamo preso lo stesso l'ultimo come si chiama l'ultimo il terzino sinistro Nicoletti anche lui ha buoni commenti qualche problema fisico ha avuto in passato bisogna vedere però anche lui tutti i giocatori che abbiamo preso hanno nardi ottimi commenti anche su di lui su tutte le società che ha lasciato da Kabashi Kabashi lo conosciamo l'abbiamo visto giocare anche diverse volte comunque tutti i giocatori che sono arrivati noi tutti i giocatori comunque di prospettiva tra virgolette tu è un giocatore che viene dal Parma a 19 anni ha secondo me una discreta prospettiva davanti dateli tempo dateli tempo anche di sbagliare si può sbagliare il portiere è un ruolo difficile si può sbagliare si grida un altro mai particolare dateli tempo dateli tempo no ma mi è sbagliato utualizzo che visto la sfiga che avventuri in quel ruolo lì è giusto prendere un portiere del Parma che mai che vada uno fa meno del Parma è in prestito è in prestito è in prestito è in prestito e penso a tutte è in prestito è in prestito è in prestito alla fine il gire di gire arriva sempre il parma è giusto il buon tour che sarà sacrificabile alzo le mani no no dai no dai è sacrificabile no è sacrificabile non so del Parma e adesso l'anini è stato comprato adesso l'anini facciamo così allora ci porta ci porta essere B è all'ultima giornata di campionato purtroppo no io approvo scherziamo eh scherziamo forza 21 torna presto ti volevo dire su Contessa che anche lui ha avuto giustamente è andato papà è rimasto giù la moglie e la casa sua in Puglia quindi era da dire che lui nella sua testa era che non potesse rimanere a reggio secondo me se no c'è un nuovo c'è un suo anche con la mugiera un applauso al Bomber che conosce i calciatori bravo Bomber no secondo me le moglie le moglie dei calciatori chiama le moglie chiama le moglie chiama le moglie giustamente come fai a sapere che appena partorita ha avuto un Bomber non puoi chiamare le moglie scusa riscrivo rischi ma Bomber Bomber questa è da è andata a casa prima dei playoff scusa dai basta giustificazione comunque salutiamo tutti i giocatori i giocatori che sono andati via quelli che torno benvenuti a Reggio Emilia si riparte da zero anche Diana mi raccomando carico come una molla ma lo è già se anche non lo diciamo noi andiamo a leggere un po' di messaggi che qua ci hanno già scritto un sacco di cose allora il Bomber è tranquillo perché gli hanno confermato Diana questo l'ho letto prima puoi chiedere buonasera Max Gall buonasera volevo chiedere al Bomber se pensa che verrà ingaggiato anche Farezzi che numero è condizionale è un condizionale Roberto Schiatti che saluto ne facciamo molti meno quest'anno 86 è un numero irraggiungibile è un miracolo poi ci chiedono del mercato cosa ne ha pensato di Montalto che adesso ne parleremo cosa che voto data al mercato ne parlerà Cerri sentiamo di finire sì ne parlerà Cerri Roberto Tegoni che salutiamo è arrivata una precisazione dalla Reggiana Nicoletti in prestito gratuito con opzioni in favore della Reggiana alla fine della stagione ora scrivo ciao ragazzi vi ascolto grande Robby grande possiamo chiedere se vuole aggiungersi se vuoi venire con noi a parlare visto che hai informazioni fresche anche del mercato qualche notizia esatto di ultima man poi ci dice Fabio che in B 5.000 non li fanno tutti infatti ci saranno 6 e 7 squadre che hanno fatto meno abbonamenti di noi in B te lo dico subito siamo a metà classifica è dappertutto che c'è questo calo e non crediate che sia a parte la serie A in serie B l'unico è il Vicenza in serie ma il Vicenza è una realtà diversa dalla nostra non puoi paragonare a una squadra che ha fatto una semifinale di Coppa UEFA come dicevo prima anche internamente tra noi però sì in effetti è una piazza importante una piazza dove la gente tiene solo il Vicenza io ce ne sono state tante volte siamo gemellati c'è una piazza che ama il Vicenza e tiene solo il Vicenza cosa che purtroppo ha reggito i loro strisciati i loro strisciati mi ha chiesto questo è un messaggio per il bomber Andrea Galatini che salutiamo il tifoso spolativo reggiano è strano sì è strano sì ragazzi sai la gente è strana sarò strano ma secondo me io faccio solo la reggiana potremmo anche dire Massimo Povesi che salutiamo 27.000 abbonamenti a Parma hanno detto che ha fatto anche a boia la reggiana tra l'altro si sono abbonati alla reggiana loro con il resto di 4 poi andiamo avanti Antonio Ere grande Anto per 10 bomba che scrivono ci sono 3.000 persone che non scrivono ma ti feranno è vero è quello che dico io ed è quello che bisogna imparare a leggere i social cosa che invece alcuni devono ancora fare soprattutto i giornalisti non ancora saluto a Lucio un saluto a tutti forza reggia sempre Claudio Caraffi vi serve il centroavanti comprateci Tutino e gioca questo lo conosco questo personaggio qua lo conosco abita a Berlino anche lui e ti fa il parma c'ha quel difetto ti fa il parma però c'ha come profilo una maglia granata bisogna che si schiarissero perché lo sto educando educazione berlinese questo Tutino che ha fatto Fabiglia Salerno a quanto pare non le ha fatte a Parma a quanto pare a Tutino comunque a me andrebbe bene perché a Parma vanno tutti male queste vanno via a Parma magari no in Serie C secondo me è sposta sì Tutino andrebbe bene sai quanto prende Tutino andrebbe bene andrebbe bene anche la felpa esatto la felpa è già abbastanza una felpa va bene allora Cristian Bondavalli che salutiamo forse bisogna bisogna che il comune provincia agisse in favore di Granata del calcio con iniziative e pubblicità Ferrante Lanzi a proposito di Ferrante che è stato acquistato dal Cesena ha già fatto due ecco insieme agli altri 42 centravanti che ha preso il Cesena a questa stanza l'abbonamento non è importante come si chiama l'altro come si chiama l'altro centravanti che ha preso dal Udo Ferrante e Corazza Corazza che viene ancora giugher va bene tiragli subito le sfighe ma fai bene bravo sulla nuete l'abbonamento non è importante perché se io lo vado a vedere le vado a vedere pagando i biglietti la società si aiuta di più assolutamente ragione ragazzi ho capito ho utilizzato i soldi ok va bene però l'abbonamento è un segnale che dai alla società ok è quello è quello e non è questione di soldi perché proprio se vuoi se per quella allora forse in una società fai ghiando l'abbonamento l'abbonamento è un attestato di stima e soprattutto di fiducia che serve alla società per avere i soldi subito e intanto per fare anche le cose le dai subito e non dopo però è per quello che io cioè io sostengo a dire caro presidente Carmelo Salero che sicuramente non è che se ne farà si farà una ragione sono arrivati 5.000 però pensate se la Reggiana dovesse andare bene come noi speriamo ma se dovessero venire 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 persone e i biglietti io spero che rimangano con quel prezzo lì che è abbordabilissimo però sarebbe comunque un guadagno per la società e al di là ma infatti lo sanno anche loro ma lo sanno anche loro ma non con Cesena Cerri l'anno scorso abbiamo fatto 9.000 sì sì però ormai allo stadio ci vanno solo per gli eventi le grandi persone cioè se giochi contro le tavernelle con le tavernelle sono gli abbonati non lo so forse forse neanche paolo coperini ma la seconda vento è logico paolo coperini che salutiamo entusiasmo goretti compraci entusiasmo axel c'era smelabonè amalgama c'era un presidente che ragazzi guardate gli chiesero manca l'amalgama io ho mai fatto ma mai mai va bene così alberto vernillo che salutiamo non va youtube no ragazzi questa sera la pagina youtube non va perché ci parte tutta una serie di siamo su youporn però sembrano le piattaforme con il nostro programma partiranno dalla prossima settimana casualmente una diretta quella funzione su youporn troverete il bomber che in prima linea davanti proprio davanti marco rainieri il campionato non l'abbiamo vinto per demeriti nostri partite inguardabili contro squadre no no Carrara Luca Viterbo e Gubbio Reda Cigini playoff lavoramento l'ho fatto ugualmente ma visto che la Regiana fa parte della Lega Calcio DC e si fa mettere i piedi in testa con partite di mercoledì alle 18 anche le altre giocano alle 18 il mercoledì anche il Sassuolo ha giocato il Sassuolo il Sassuolo il Sassuolo che io sicuramente non parlerò mai bene del Sassuolo però ha giocato alle 6 di mercoledì col Milan che era una delle partite più alle 6 col Milan ieri martedì purtroppo il calcio è questo qua non è questione di Regziano c'è in mano le televisioni allora possiamo dire a questo tifoso che tra l'altro ci si fa sempre Marco non è che si può mettere i piedi in testa gioca tutto il giro o anche il Dele è infrasettimanale diciamo il tifoso Marco Rainieri che purtroppo ci sono degli step quest'anno con la Serie C ogni girone gioca o tutto il girone di sabato o tutto il girone di mercoledì alle 18 siamo capitati noi che adesso giochiamo alle 18 attenzione non è detto che la partita venga poi spostata alle 20 e 30 se sotto richiesta di Reggiana e Sandonato diciamo che è una roba assurda diciamolo a prescindere però non c'entra la Reggiana non c'entra perché in Serie A può avere anche una logica anche se a me fa schifo ma è una logica di soldi ma è una logica di soldi delle televisioni e Saddani purtroppo per fortuna Sporti Leven è entrato nel mondo della Lega Pro e quindi comunque sia da qualcosina alle squadre per avere diritti televisivi e come succede nel piattaformo di Serie B pochissimo credo 20-30 mila euro l'anno ne vale la pena di fare degli affronti lì sono una società che dovrebbero far sentire ma insieme non la Reggiana la Reggiana da sola si va lì la mandano indietro e dicono grazie con queste piattaforme qua la fanno da padrone noi vediamo su Dazzone su Sky che decidono anche loro quando siamo andati in Serie B non c'era tanti ci mettiamo d'accordo e facciamo la partita quello è l'orario e quello la fai ti dirò è andata bene che abbiamo solo tre concomitanze con il suo solo che sta sul coglioni perché ci vuole poco a mettere dentro dei dati in un computer però la che è mi arrivere però ci sono degli anni che 7-8 concomitanze quest'anno 3 almeno almeno mi ha scritto adesso il responsabile della comunicazione della Reggiana Marcello Toggi che salutiamo mi ha detto Gabri c'è un errore Nicoletti è in prestito con diritto di riscatto a favore della Reggiana prestito gratuito Togo ha scritto così forse è uscita qualche informazione in giro sbagliata esatto e stanno mettendo a posto i comunicati adesso in Reggiana mi hanno detto quindi Nicoletti è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto a favore della Reggiana e diceva Salerno che molti sono arrivati con questo sostenibile anche quelli in prestito sono arrivati molto con la possibilità di riscatto non credo Turk ad esempio Turk non credo proprio ma gli altri credo si comunque andiamo avanti ok si è il messaggio per Kabashi l'ha comprato Kabashi l'hanno comprato l'hanno comprato quindi è venuto a titolo definitivo dal Enami l'han pagato proprio Kabashi no assolutamente no credo assolutamente no cioè è stato è come uno scam cioè tu prendi il giocatore ti accolli lo stipendio che hai in quel momento sì sì quello è chiaro quello è chiaro gli hanno fatto il contratto di un anno poi attenzione non è che il contratto di un anno è finita lì sicuramente è possibile che abbia andato a zero proprio penso che non abbia pagato anche perché eri in esubero dal como perché sono arrivati Cutrone e un altro se aveva un contratto al como di più anni si sono tolti un contratto ed è arrivato con un contratto di un anno è vero ma sicuramente avranno fatto un'opzione per un tot presenza non lo so ipotizzo io sì ma non interessa andare in Serie B ragazzi io con queste polemiche che faccio Kabashi un anno o due anni a me mi frega niente a me interessa poi se vai in Serie B Kabashi non Kabashi se intanto vai in Serie B dopo guardiamo Kabashi Stefano Negri che salutiamo Zamparo 300 la Reggiana più 150 per tre anni a lui di cosa parliamo da Porter con la Cariola sì beh la Reggiana non si poteva neanche permettere queste cose qua sicuramente per Zamparo aveva un'altra con la Cariola quello vuol dire che non ti piace Zamparo nel senso che Zamparo era il miglior centravanti del girone della Reggiana lo scorso anno è giusto darlo via perché sicuramente lui voleva andare perché non c'era un'offerta migliore la concorrenza un po' per rischioso però la Cariola la userei per altri giocatori per Ardemagni magari ma non per Zamparo no Cariola è sprechente grande Ardemagni Zamparo non ripete l'annata altrimenti lo compra il Milan sicuramente cedendo l'addrezza ci siamo rinforzati Angelo Masoni no dai grande da Igor comunque era ma di tutto Zamparo è stato un affare fatto sia dalla Reggiana che da Zamparo che l'addrezza l'altro anno non ha giocato comunque dai è forte ma l'altro anno non ci ha portato molto dai ha sbagliato diverse partite però secondo me è un giocatore è stato uno dei pochi giocatori che salvo dalla Serie B ma no anche la Serie B è fortissimo però se tu hai Rossi Cigarini è un po' troppo troppo agita che c'è quel gioco lì simile chiaro che Cigarini adesso è rotto Stefano Negri che andiamo atti con i messaggi centro capo migliorato prima parte del campionato Rosafio è un fenomeno in C infatti quest'anno abbiamo venduto molti attaccanti perché quest'anno Rosafio molto probabilmente farà il secondo d'attacco l'anno scorso ne avevamo 6 più Sorrentino che dopo è andato via ne avevamo 7 vabbè giocare via 3 a volte ci sta però alla fine perché Arrighini è arrivato dopo stanno siamo arrivati alla fine Arrighini 6 comunque in generale però voglio dire alla fine in due giochi a due quest'anno te ne basta 5 Roberto Verzellesi grandi ragazzi abbiamo una grande regia prendiamo Palaccio e su che si sale oh Palaccio Palaccio è stato un errore di Pazzoni che ha detto reggiana al posto di reggina in realtà è girata questa voce per cui è giocato è meraviglia o forse ragazzi nemmeno si entra avanti in Palaccio Luigi Gandolfi Guiebre in prestito al Modena di questo ne parleremo anche dopo perché se questa operazione qua va in porto per me Goretti è il numero 1 perché Guiebre l'avevano valutato 250.000 euro a Monopoli la Reggiana si è provata a prenderli a Monopoli nel gioco è nel gioco chiaro il Modena l'ha preso quindi gli avrà dato non so 150.000 200.000 euro e lo darà in prestito alla Reggiana non so se è gratuito o no però a questo punto ci diano azzi e tengono chiaro se viene Reggio vince la diciamo la concorrenza del Bari che è in Serie 2 se viene Goretti grande grande Mauro Lasoni 170.000 per tre anni la Reggiana 370 euro bel colpo per la Reggiana Zampano non lo sappiamo le cifre sinceramente però fa bene Enrico Ferrari la squadra sulla carta si è rinforzata rispetto allo scorso anno nonostante la costosa figura figurina Montalto Montalto Cesena si è rinforzata Lentella non si può far dire la promozione con questa squadra beh ragazzi che è una cacchietta Cesena e dopo dobbiamo lottare come l'anno scorso fino alla fine e provarci seriamente senza affare come ha detto c'è Richie vuole la Serie B punto ah certo grazie ragazzi è bello rivedervi e chissà con un nuovo sponsor sì perché i parrucchieri qua mi sa che adesso ne parleremo adesso la Dea Parrucchieri ah pensavo la Valarezzana sponsor no no nel nostro programma ragazzi noi qua facciamo miliardi non posso mi chiestere niente mi dispiace però i parrucchieri io non sono un gran cliente noi noi io ormai da due o tre anni che con gli sponsor sto accantonando i soldi e per comprare una patch cutanea come c'ha il figlio di Facchinetti a Valbomber così dopo c'hai i capelli una patch cutanea bella come qua c'hai il ciuffo ma la sa perdere non la sa perdere allora vabbè se andiamo a Serie B il bomber con la parrucca vabbè poco vabbè bionda come no sì 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 12esimo Granata vi piace l'inizio stile della Legiana per avvicinare i tifosi della squadra detta la salina in conferenza stampa di oggi sì bellissima ne parla Cerri parlo io è bella è una grande idea io l'avrei fatta ai tempi di teste quadre quando ero presente in teste quadre per me la provincia di Reggio è lunga alta è bassa è stretta è lunga c'è le montagne c'è la pianura abbiamo bellissima gente quando c'è il derby quando ci sono i derby si sentono gli accenti della pianura della montagna ed è fantastico e ti rendi conto che c'è un potenziale molto superiore a quello che portiamo allo stadio però bisogna coinvolgerli e Salerno ha avuto la buona idea oggi di andare in giro nelle scuole della provincia a provare a coinvolgerli io sarei anche per regalare una maglietta Granata ai ragazzi delle scuole ma siamo già in ritardo anche quest'anno e non riusciremo a farlo sul banco da mettere secondo me non era una brutta non era una brutta iniziativa cosa che fanno i nostri cugini da diversi anni i cugini per modo di dire iniziamo quest'anno poi per il prossimo ci sia anche quella è una bellissima idea a gennaio per dire anzi tra l'altro tra l'altro se vengono bocciati quelli che vengono bocciati noi gli diamo la maglietta alle già tutti segati sempre che sono potenzialmente gente da cura quindi gente ultra bomber tra l'altro se vuoi parlare geniale l'iniziativa della Reggiana che ha fatto per la prima volta credo da quando io vengo anzi da 25 anni a questa parte non l'ho mai vista col pulmino sono andati nella montagna in collina in città a fare gli abbonamenti alla gente cioè non è più la gente che va in sede ma è la Reggiana che ti dice io domani sono qua anche l'altra provincia esatto io li ho fatti su in montagna la Michioore a Toano la Michioore l'on lì due minuti non vengono quelli l'hai detto a Gabri che quelli non bisogna rifarli sì no più che altro bomber scusa la Reggiana va su per fare l'abbonamento ai montanari che non vedono loro che arrivi e tu arrivi che sei un piangin e gli rompi il cazzo e fai la fila è me il fag che era solo me e l'ho fatto me basta chiuso ero lì l'ho fatto subito 5 minuti dopo ci è andato tutto il tempo Montalto a Montalto sono andati a fare l'abbonamento a Montalto e bomber diamo un voto a questa iniziativa della Reggiana beh un bel 8 un bel 9 dai scusa non l'ha mai fatto dagli 10 cosa lì dai 8 ma no mai mai la perfezione 9 dai non andava al post delle volte 8 ok no 10 dai allora se lo direi 10 10 bravi comunque hanno fatto stati bravi quando fanno delle iniziative simpatiche è giusto dirlo insomma comunque ridendo e scherzando sono quasi 200 persone che si stanno guardando quindi grazie mille a tutti non abbiamo detto niente quindi è una bella cosa Nicola Soncin Pellegrini e Nardi due bei giocatori che ne dite delle amichevoli fatte? Cerri tu che hai visto le amichevoli perché un po' l'ho vista così col telefonino in giro ho visto le infortuni di Venturi ma le amichevoli non contano niente ragazzi però bisogna anche dire questo quello che conta è che abbiamo la stessa squadra l'altro anno e quello da sicurezza l'unico problema è che non c'è il Ciga che rientrerà ma abbiamo preso due bei centrocampisti nella amichevoli l'ultima forse si può dire qualcosa con la Binolef che era una squadra di livello le altre erano amichevoli il nostro è il nulla è il nulla anche quello per altri per altri aspetti Totuccio Perreira buonasera da Palermo salutiamo sono stato tanti anni a Scandiano oltre ai Rosa Nero faccio il tipo per la Regia di cui vedevo al Mapeino al stadio Giglio tutte le partite quindi salutiamo anche questo tifoso del Palermo che ringraziamo a noi non piace a noi non piace chiamarlo Mapey che l'abbiamo fatto noi esatto non lo chiamiamo Mapey perché sto arrivando a Sassuolo ma comunque salutiamo ti ringraziamo per godarci da Palermo perché insomma aveva sempre Stefano Negri le trasferte verranno fatte vedere su Teletricolore in diretta anno scorso solo una parte della stagione allora Sport Eleven tra l'altro ha alzato l'abbonamento perché come sapete il Serie C i tre campionati i tre gironi sono tutti sulla piattaforma di Sport Eleven l'anno scorso credo costasse 89 io non l'ho fatto perché andiamo praticamente tutti in trasferta ma quest'anno costa 99 adesso non mi ricordo comunque Teletricolore avrà sicuramente 3-4 partite da poter far vedere in diretta comprerà i diritti come ogni anno vi do un consiglio va bene che se avete impegne però venite a vedere la Reggiana quest'anno tra l'altro non sono anche trasferte lunghissime perché insomma anzi certe trasferte sono anche vicine a Fiorenzuola adesso non ci ha messo il Piacenza non so perché ma venite in trasferta perché vedete Valdirelli esatto però è bello perché conoscete gente ragazzi la Reggiana va vissuta allo stadio allo stadio perché ne parlavamo anche con Ceri l'altro giorno non ci saremmo mai potuti conoscere se non ci fosse la Reggiana anche noi ma io ho conosciuto gente dalla montagna alla bassa cioè dappertutto quindi venite io conosco grazie alla Reggiana almeno quante persone conosciamo Bomber ah beh una valana 5-600 cioè dico di faccia di vista è incredibile quante persone grazie a questa passione ti metta con tappe ed è l'ultimo l'ultimo posto a Reggio dove puoi conoscere è diventato un ritrovo ragazzi è l'ultimo luogo di aggregazione 25 anni da andavamo a vedere il nulla praticamente è l'ultimo luogo di aggregazione rimasto per i reggiani a Reggio Emilia credo poi sarebbe bello io dal mio punto di vista che sarebbe coinvolgere anche i non reggiani o quelli che arrivano a Reggio cosa che facciamo molto poco e non riusciamo a fare anzi nel senso che quelli lì con i risultati eh lo so lo so quello è l'unico modo sono anche delle pelle trasfertine a fare in certe zone con la Toscana l'Umbria e vogliamo mangiare qualche lina dei 500.000 della provincia tornando discorsi abbonati i reggiani ce ne saranno 250.000 i reggiani nel senso non voglio fare discorsi sono persone che sono arrivate da poco persone che non sono che non hanno nessun collegamento con la reggiana oppure sono sì che magari vanno coinvolti in qualche modo che non sono anch'io però va bene basta ok andiamo avanti dovevo dire una cosa ma mi sono scordato Mauro Lasoni la reggiana ha perso Guibre ha preso arrivo Bombaro arrivo c'era lontano lo schermo mi ha affettato il Bari io dico che diciamo che dal convento in sé non ho una fiducia cieca in questa notizia però se la possiamo dare con certezza diciamo che non è uscito a Goretti è meglio di Verstappen va bene allora allora ci dico attenzione attenzione sta parlando a Goretti direttamente il bomber c'è il numero di Goretti è l'unico a Reggio che riesce a parlare con Goretti il bomber sappiatelo non è ancora capito c'è arriva lui gli mando un messaggio a qualcuno che non è neanche all'interno della società cioè il Modena praticamente sembra che l'abbia dato la Reggiana Modena per Goretti e Giardio andrà in presenza la Reggiana lo sapevamo anche due ore fa da dove? su che fonte? dili fonti se no senza fonti tutto mercato vabbè un sito di merda come al solito no salutiamo 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 hanno milioni di visualizzazione no scherziamo chiaramente anche perché ci chiudo la nostra pagina salutiamo ringraziamo come sempre dico col mercato aspettiamo se volete sponsorizzare mettiamo tutto il mercato dalle parti qui sopra mettiamo ogni sito dalle parti c'è un messaggio che l'ho perso però ti dicono di chiudere la finestra perché entro le zanzare c'è una zanzare se chiudo la finestra e muoio mi caglio Gabriele Pierdicca che saluto penso che prima di giudicare si debba vedere la squadra all'opera un mio parere che la squadra sia tecnicamente più solida al centro campo basta pallaggi infiniti ma se puoi tirare tiri e cabasci mi sembra buono sulla punta Montalto non si può paragonare a Zamparo tecnicamente più forte tutto spero che scenda in C e abbia le motivazioni giuste per la squadra l'età relativa vedi Cigarini e Cremonesi tutto condivisibile quando uno è buono è buono si diciamo che hanno smentito completamente la politica secondo me del iniziale del ringiovanire del cercare di divendere di rendere sostenibile ma a me va benissimo io sono contento quindi prendete pure dei 34 anni che facciano bene che facciano gol che ci portano in B perché la sostenibilità la raggiungiamo solamente in Serie B ah scusa ne parliamo Andrea Cognati promesso non voglio far promesso non voglio far ponemiche anzi si può dire che il livello di comunicazione della regione deve un po' migliorarsi in generale si può dire si è vendita anche noi prima beh comunque vedendo questi questi messaggi tutto questo scetticismo io non lo vedo no ma a parte che quelli che scrivono delle cagate qua non scrivono perché no 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 li mettiamo in diretta e li distruggo no scrivi no no scrivi vi difendo vi difendo vi difendo io vi difendo no Andrea sicuramente di comunicazione devono migliorare ma devono migliorare su tanti aspetti è una società che come ha detto Salerno oggi siamo partiti dalla Serie D dalla Serie D si sono ricostruiti stanno migliorando i campi stanno migliorando quello è gran cosa quello è gran cosa io non ci credevo e tuttora faccio fatici credersi io se volete sapere la mia anche se non c'entro niente con la società ma io gli ho sempre dei consigli gli ho chiesto cara Reggiana ma perché le dirette delle conferenze stampa non le fate voi io non posso andare su un'altra pagina Facebook ma con tutto il bene che voglio a quelli che ci danno quel servizio lì per l'amor di Dio parlo di Grazzetta Granata o parlo di Tosi che casomai ogni tanto le mette sul sito di Teletricolore la Reggiana ha un potenziale con la pagina Facebook incredibile che noi non possiamo avercela neanche noi con Face Regia perché paghi i giocatori quindi ha l'esclusività di potervi dare un servizio che è la Reggiana allora io ho detto signori dovete incominciare a farlo ma lo sa Marcello Tosi che è il personale della comunicazione ma non è colpa sua perché lì si parla della società se la società gli dice Marcello fallo Marcello lo fa però deve essere probabilmente hanno tante cose a cui pensare ancora non è in cui non è niente adesso sicuramente anche se però se vuoi fare i 5.000 famosi abbonati sono particolari che devi curare sì però vi dico è una società che è in completa continua evoluzione quindi diamo tempo alla società io tutti i giorni glielo dico incominciamo dalle dirette poi pian piano verrà tutto però date il servizio voi in modo che tutta la gente la riportate sul vostro Facebook questo è un servizio che devi dare perché lo fanno tutti lo fa il Pontedera cazzo lo fa andate a vedere Facebook del Pontedera Facebook della Lucchese cavolo lo fanno è la base quella lì quindi noi lo dobbiamo fare per forza se siamo raggiati poi se posso dare un commento negativo su questa cosa che lo fanno la stessa società e che poi le domande diventano un po' floppine nel senso che sono un po' addomesticate le interviste però sono d'accordo era solo una cosa però io cerri dico la diretta della sala stampa dove i giornalisti la conferenza la conferenza sì sì la conferenza stampa per esempio quella di oggi non l'abbiamo vista su Gazzetta Granata ma noi ringraziamo perché comunque da un servizio che io non avrei potuto vedere sì sì a fine partita anche però anche a fine partita fatela voi datevi a voi la possibilità di farla per primi anche perché poi c'hai gli sponsor che ti pagano hai tutti questi sponsor reggio almeno metti dietro gli sponsor e dai visibilità anche in quel modo agli sponsor sì 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 ma comunque io so che anche Marcello Tosi c'ha anche dei progetti che ci ha spiegato per un'ipotetica tv della Reggiana quindi c'hanno tantissimi progetti però bisogna incominciare a farli bisogna incominciare a farli perché la Reggiana deve evolversi anche in questo non solo per giocatori quindi so che ci stanno lavorando su questo noi li sentiamo non dico quotidianamente però insomma li sentiamo Marcello è bravo però deve avere anche la società che incominci a dargli più possibilità per fare tutte queste cose qua sicuramente quest'anno vedremo delle belle novità Olmi in aeroporto ci dice Cristiano Valla e dunque Olmi in aeroporto ad aspettare la nuova punta con il cartello è andato con il cartello montalto non ci credo che ha leo bomber ho debuttato nel footgolf a Barcellona con un più 23 o futuro a queste footgolf beh più 23 abbastanza lunga però mai mollare mai mollare perché è un giochino che si migliora giocando esatto il giocatore guarda TRC Alberto Galiverni TRC che è il coro tra l'altro sì dovrebbe esserci il budget blindato è stato costrante castrante castrante per Goretti ok Paloreggiano il budget blindato secondo me no perché ha detto che ha fatto il budget lo scorso anno forse spendo un di più ma secondo me l'unico giocatore che hai perso l'unico giocatore che hai perso è Beghetto di quelli che ragazzi è nato in B l'unico giocatore che era in procinto di prendere non si è riuscito a prendere è Beghetto ma gli altri sono tutti i nomi che sono apparsi sui giornali ma non sai se effettivamente erano quelli richiesti oggi Salerno ha detto che quello che stanno prendendo lo cercavano da settimane e stanno aspettando fino alla fine però vero poi ho tutte cose che sto ridendo perché bisogna vedere se è vero o meno secondo me Beghetto è un gran giocatore perché Beghetto è un bel giocatore ha un piede di serie A è l'unico dubbio che ti viene come mai uno così che ha un piede da serie A in serie B tutti gli anni cambia due squadre tutti gli anni due squadre qua di là di qua di là Massimo Povesi Bomber si dice toglieteci dai colori Schiattarella e Laurini fate domanda che vi regaliamo da Parma Schiattarella se non avesse un problema muscolare ogni 20 minuti vabbè andiamo a torno inglese dateci inglese che è in forma lo vedo lo vedo sul pezzo vi sto guardando ha fatto gol sembra che vediamo anche Guiber per andare in B è vero occhio ci arriviamo Andrea Zuliani Cugarini Cigarini era l'unico che doveva essere venduto fisicamente come ha detto il Bomber c'è visto che lo usano come modello per la presentazione della maglia di domani sera ma no è in generoso dire così ragazzi ha fatto un campionato incredibile poi voglio dire c'è ho capito spiegato come Cigarini sa giocare a calcio però voglio dire Cigarini è in Serie C il più forte per distacco di tutto ragazzo quando c'è la Palazzo quando c'è la Palazzo di Cigarini io all'altrano mi mettevo a ridere quando c'è la Palazzo di Cigarini perché vedevi proprio che c'è delle cose che giochi bene cioè le vedi vi ricordate a Teramo quel pallone altissimo che due addosso a lui dentro l'area che lui ha stoppato la palla con l'interno e gli è passato di fianco il giocatore non si sono mica accorti ma tutte le volte che tocca la Palazzo vedi che non ha niente a che fare con la Serie C se vai nello spazio il pallone arriva sempre ragazzi è di un'altra categoria non c'è da fare Andrea Fava andiamo avanti con un po' di messaggi Andrea Fava dite quello che volete ma ciò che importa è che domenica si torna allo stadio questa è una delle più belle contro le simpatici lucchesi bravo Andrea ah proprio ho sentito i lucchesi i tori flasciati Andrea Stefanoni da Cremona che salutiamo qui piovono critica vagonate ma la gente non capisce che la Serie A è un altro mondo no non proprio non piovono che piovono poche di 5, 6, 10 persone no 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 c'è Riquali da Cremonese ah scusa ho sbagliato magari forse deve tenere duro Aldini Aldini deve tenere duro la Serie A ragazzi la Serie A è difficissima Cremonese Cremonese Lecce e Monza 0 0 punti che è una regola Marco Lonelli che salutiamo ma grande cosa ha venduto e basta va bene il concetto di sostenibilità ma se vuoi puntare la Serie B abbiamo una rosa deficitaria ragazzi torniamo venduto e basta gli diciamo cosa ha venduto non so Porcino non so Porcino non so chi ha venduto Del Pinto che purtroppo se l'ha fatto male dopo l'andato via l'andato via Scappo gli facciamo un fusto in piazza però ma insomma chi l'ha fatto Attenzione Scappini non è stato venduto non è stato rinnovato il contratto esatto non hanno rinnovato Arrighini andò via adesso hanno venduto Zamparo di fatto della squadra che giocava Zamparo Radrezza e Contessa queste sono le vendite è sostituito Radrezza con Nardi e Cabasci come dice dobbiamo prendere il terzino sinistro che uno l'abbiamo preso e l'abbiamo preso e l'abbiamo preso e poi dopo l'abbiamo preso e entra avanti io penso che abbiamo ripreso Cremonesi e Lanini perché li abbiamo messi per scontati ma non erano scontati perché era il mio e nostra quindi voglio dire Cremonesi e Lanini sono due acquisti poi bisogna paragonarsi all'altra squadra questi commenti qua sono di gente che non ti fa la Leggiana solo la Leggiana perché se tu parli io guardo la Serie C a me della Serie A non me ne frega un cazzo se paragoni la Leggiana alla squadra di Serie B Serie A siamo scarsi ma noi dobbiamo vincere noi dobbiamo battere il come cazzo si chiama la squadra che ho detto prima il Tavernelle non dobbiamo battere l'Inter dobbiamo battere il Tavernelle e la squadra che abbiamo è una almeno di sicuro una delle prime tre con gli ignesti che andremo a fare se abbiamo fortuna perché poi ci vuole culo è brutto da dire ma il gol con l'è era in prima quindi voglio dire però dire che è una squadra che è stata indebolita mi sembra Zamparo è l'unica cosa che ti ha indebolito ma speriamo guardiamo che arriva è duro dal mio punto di vista per molti no per me è complicato però vediamo si può trovare secondo me si può trovare però sicuramente per me il suo lui l'ha fatto alla grande come si faceva a chiamare il camioncino della Reggiana in negozio da me a Campagnolo avrei chiamati Andrea devi chiamare la Reggiana perché noi su questo non lo sappiamo sappiamo che la Reggiana ha messo delle tappe diciamo importanti per raggiungere tutti i punti ne avrà fatto una in montagna una in pianura è andato dove hanno giocato dove hanno fatto le amichevoli Correggio è andato a Castelnuovo Monti quella è stata una gran bella iniziativa molto noi non l'abbiamo mai vista da quando la Reggiana credo no mai fatto il basket forse lo faceva o sbaglio si per quello Reggiana non lo faceva in calcio Giuliano Fontanesi Ceri siamo in sauna e ti aspettiamo con Gans e Marione l'amo questo grazie 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 perché non mi hai coinvolto a me ma hai coinvolto solo io ti vicino però io sono a Berlino lui invece fa prima no 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 chiediamo lo scorso anno ci dice il buon Jack Cicerone lo scorso anno 70 quest'anno 90 scusa? no mini golf no 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 se fate no è 4 dire secondo me non lo so il buon Cavas che state facendo la televisione sostenibile abbiamo licenziato due persone quindi più sempli così c'è Piappanino si sta facendo di tutto Giuliano Cottafava buonasera a tutti vi chiedo novità nell'ultimo momento per il mercato alla Reggiana grazie a me per l'informazione non lo sappiamo beh è arrivato il terzino sinistro sembrerebbe che Guibre il Modena l'ha girato alla Reggiana e non al Baccia ma chi te l'ha detto? l'altro è già arrivato Nicoletti è già arrivato che cacchio ne so chi me l'ha detto lui c'è un contatto con Gore non lo vuol dire ma c'è Goretti quando sta al telefono sta al telefono con il bomber Goretti non dice niente è una tomba è una tomba comunque abbiamo preso Nicoletti Goretti l'ha preso Nicoletti 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 va bene Nicoletti sembra questo Ghiobre Ghiobre Guibre speriamo che Montalto non sia il nuovo Ettore Marchi no ragazzi no dai fai Montalto è un giocatore che tuttora diciamo piano però ha giocato l'anno scorso quindi è integro ed è un giocatore a 33 anni 34 33 però è forte dovrebbe essere forte bisogna vedere in Serie C dovrebbe fare bene tutti dicono quelli che l'hanno visto alla Regina se vai a vedere i commenti alla Regina era quasi un idolo della tifoseria insomma non arriva uno all'ultimo scappato di casa qui a Reggio succede tutto ovviamente Simone Stella che salutiamo Carrozzeria 2S che sarà con noi tutto dalla prossima settimana tutto il campionato ci ha già detto che ci supporterà tutto il campionato con la Carrozzeria 2S che ringraziamo perché è uno degli sponsor cioè è lo sponsor principale che forse storico c'è anche un altro però ci darà l'opportunità di essere su questa piattaforma su YouTube in una determinata maniera con un abbonamento particolare no ve lo dico perché i soldi dei sponsor non è che andiamo a mangiare la pizza però comunque grazie Simo come no ci ha mai assunto così a me con questa scuola se andiamo a mangiare la pizza le costiamo di più no il Bob non si deve ancora offrire una pizza andiamo avanti che aveva perso una scommessa di vabbè non ne parliamo Luca Casoli che salutiamo quelli che scrivono il cagato andavano eliminati a parte che sulle nostre pagine non scrivono neanche sulle pagine non scrivono scrivono sulle pagine secondarie e poi non vanno eliminati vanno va risposto in modo intelligente a tutti addomesticati mettendoli educati educazione siberiana Domin Mark buonasera a tutti sono di Messina vedere squadre Massimo Povesi una volta era quasi normale l'abbiamo educato sì e dopo è tornato salutiamo questo ragazzo di Messina che ci scrive vedere squadre come Messina e Reggiani lega proprio angelo il cuore dovrebbero viaggiare in Serie B in Serie A queste squadre sì salutiamo grazie per vedersi da Messina Massimo che invitiamo Massimo Povesi lo invitiamo tra l'altro le missioni una volta cavolo perché non vieni mai qui il buon Povesi non vuol venire no? no beccato Elena Bonacini scusa mi sono distratta chi è partito dalla Serie D? chi è che è partito dalla Serie D? beh è la società 4 anni fa sono partiti siamo falliti siamo ripartiti rifondandoci la società stessa della Serie D quindi stavo parlando di organizzazione piano piano si sta strutturando in tutto anche a livello di comunicazione prima ci ha detto si può migliorare in comunicazione secondo noi sì la Reggiana ha tanti no ma il problema è che quel fallimento lì è stato devastante esatto perché perché sono saltati i campi di allenamento e non si sa il perché però cosa saltate? vettore giovanile vettore giovanile tutto quello che ne consegue stadio era già andato da mo' cioè voglio dire vado controcorrente io dico che in Italia così come ho organizzato il calcio adesso è meglio fare dei buoni anni e poi fallire e ripartire purtroppo e dico perché è una cosa schifosa però se tu guardi anziché fare dieci anni di Barilli con l'acqua alla gola che devi risparmiare è meglio fallire ripartire da zero sperare che cerri voglio dire sei fallito non è che sei fallito non è successo niente hai fatto tre anni che andavi in giro fino all'anno scorso anzi adesso andavi in giro l'anno scorso ma quello è un problema è un problema del nostro andavi in giro per la provincia da venarti ragazzi è roba da male allora sono sincero è la nostra amministrazione che non allora allora dico è successo cioè dico siamo ripartiti e ti dico essere qua a questo punto già dopo quattro anni fare una società che comunque ha un buon livello in C e ha delle mire è buono è buono ragazzi Amadei è una manna dal cielo che si è arrivata non saremo qui a parlare di Montalto e Montebasso staremo al di là di tutto staremo parlando di Monte molto basso se non ci facciamo che la mia Montalto che era buon vissuto all'Elena all'Elena gli spieghiamo che abbiamo fatto questo discorso per dire che quando prima ci hanno chiesto si può migliorare qua la comunicazione dall'altra parte certo la Reggiana ha tantissimi margini di miglioramento è chiaro che si sta strutturando pian piano a migliorare vari settori anche teletricolora delle immagini miglioramente nelle telecamere sentiamo Mazzone però tutti avete visto le amichevoli a vedere le amichevoli non era così facile perché c'era stata la telecamera al di là di tutto se non ci fossero stati loro in questi anni no no assolutamente fanno quello che possono giustamente il giorno d'oggi tenere in piedi una televisione ragazzi non è facile è molto complica è più facile tenere in piedi la pagina film che non fa tenere in piedi una televisione non è facile ma è con Mazzone il direttore salutiamo Mazzone grande Mazzone ti voglio bene supportare Max e Carl se fanno una tv regia fatta bene Mazzone si ritrova a fare dirette di notte in strada con Gianni può essere con Gianni Vanni finisce oggi o domani il mercato domani primo settembre alle ore 20 e presentazione domani della Reggiana e delle nuove maglie esatto adesso ne parliamo finisco di legge questi ultimi messaggi contestare cigarrini da insensati contestiamolo contestiamolo Caronte Bragranata 300 braccia al cielo sollevate 300 cuori per un unico colore 300 sciarpe al sole 300 voci per un coro d'amore 300 animi ma basta 300 quanti siamo è un solo corpo su un solo corpo marcia per la sua amata il GV faccio la musichetta sotto io dai porti di cantare ci voleva un incipit anche perché grazie Caronte Granata per i tuoi messaggi Andrea anche 300 non lo so forse hai 300 di non mi far queste domande questione di punti di vista dovrebbe migliorare il significato la parola umiltà Andrea che tra l'altro la foto di sua moglie non lo riusciamo a capirti siamo scollegati su un altro canale probabilmente non solo io non capisco è uno che ce l'ha con lui ma per qualche motivo non so ah è sempre con Cigarini ecisticamente parlando sdiscut me up dopo Giacomo è Gabri che mette mette in luce questi messaggi vuol creare polemiche anche Gabri no io li leggo tutti scherzo la contestazione Cigarini adesso i Levin Sport parlavano che sembra che Dazon le vada comprare stia comprando alcune partite no no tutto compra da compro il Levin Sport e dopo da Zon fare partire di Serie C bellissimo almeno si vedranno un po' meglio e noi andremo in Serie D di solito quando ci siamo esatto ma finirà c'è la fine Lampasera se club più adesso ma la in Serie D tu che andrà in Serie C comunque si è vero il Levin Sport ha aumentato l'abbonamento i 10 euro avanti tutta per forza venite alla Reggiana ragazzi sta a Barcellona lui no lui sta a Barcellona ok però l'abbonamento della Reggiana in curva costa Bombard 120 allora ecco questo è quello che ho scritto anche io che teoricamente ci dovrebbe essere un sistema attraverso il quale io compro l'abbonamento della mia squadra e in automatico compro anche il pacchetto della televisione questo dovrebbero fare le società a quel punto avresti più abbonati anche perché tu è l'unico modo ok io spendo 180 euro che cazzo ne so e ho ingresso allo stadio e visione delle partite ah ma sì quello è un discorso che ho visto che hai fatto anche sulla pagina è molto complicato però è inattuabile è inattuabile ma nel senso che non lo vogliono fare secondo me dovrebbero in serie C e in B e in A non ha senso ma in serie C quei ricavi che hanno questi 10-15 mila euro che non servono a niente nella gestione della società dovrebbero studiare un modo diverso e il modo diverso potrebbe essere quello di vendere l'abbonamento le società lo vendono l'abbonamento e magari si dividono con vabbè Pallone Reggiano la società perché tace sulla programmazione della Lega del Big Match con il Cesena ragazzi allora la società non è che tace bisogna arrivare bisogna arrivare a un certo punto dove le due società si incontrano e chiedono la Lega possiamo fare visto che è un mess di cartello alle 20-30 ma non possono magari la fanno vedere in tv anche quello va deciso le partite di programmazione e si gioca di mercoledì con il Cesena Reggio e c'è che la Rai le prende quelle partite di solito e poi spostano la partita da sera anche la partita alle 18 perché la Reggiana è capitata in questa tranche qua dove il girone B fa queste determinate partite alle ore 18 le altre giocano sempre di mercoledì però alle 20-30 sempre motivi televisivi così quelli che del girone pensano loro che non guardano li guardano gli altri gironi in sostanza è quello poi vedremo però non ha senso che la Reggiana Cesena si giochi dai non ha senso effettivamente gioca col tavernelle quella partita ha già messo infrasittimanale perché è il turno infrasittimanale ma sì ma è di Indisemo anche questa cosa di Sera Indi Cuiau Indi Cuiau punto se a me che ogni anno mi vedo 4-5 partite allo stadio e faccio l'abbonamento e mi regano la maglia io lo faccio anche da Barcellona che lo faccio comunque ma vabbè esatto esatto ci vorrebbe un modo per coinviare la gente perché è giustissimo quello che ha detto Salerno che uno dovrebbe fare l'abbonamento anche se lo va allo stadio però ci vorrebbe un contentino in modo da far sì che uno faccia il gesto che abbia anche un qualcosa in più ci diceva che i 300 sono gli spartani grande Caronta ma non ci arriviamo siamo gente proprio guarda il bomber si sta addormentando allora direi che possiamo era preso dal film noi siamo allora intanto diciamo che gli abbonamenti hanno superato quota 3.000 pensavo 4.000 grazie a noi stasera invece sono ancora 3.000 però non avete ancora fatto l'abbonamento impennati in un'ora e mezzo lo paga il bomber lo paga scrivete conto bomber ci troverete una ragazza che dice bomber 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 quindi mi raccomando andate a fare l'abbonamento anche perché la reggiana bomber sto parlando di una cosa seria come me no allora andate a fare l'abbonamento veramente perché uno c'è il risparmio ma ancora prima dell'uno che c'è lo zero fate veramente un gesto alla società gli date un gesto di fiducia di incoraggiamento per il campionato che andavano ad affrontare e anche per avere i soldi prima per per comprare Montalto le anche a Xera che va la faccenda quindi se no venite allo stadio se la reggiana dovesse andare bene cosa che noi crediamo e speriamo spenderete quei 5 euro in più a partita che non spende un abbonato e vi sta bene dovete stare zitti e soprattutto non fate l'abbonamento al Sassuolo per vedere mille l'interview che tristezza ci sono 5.000 persone che hanno fatto l'abbonamento per vedere mille l'interview quello è il grosso problema che abbiamo noi a Reggio non è il Sassuolo sono quei 5.000 reggiani che fanno l'abbonamento al Sassuolo per vedere due o tre partite all'anno e in questo modo favoriscono il Sassuolo che può dire che ha 5.000 abbonati a me fate schifo però fate voi eppure puzzate adesso io non ne sono via via la fila in fondo vuoi dire e poi la Femmina la Reggiana sono sempre quelli che non ci sono i famosi di Reggio che non sono reggiani niente la Reggiana tifono Juve in 3.000 e basta però a fare buon abbonamento al Sassuolo proprio intanto che io cerco dobbiamo riappacificarci però non ho detto questo è stato Bomber ti riappacifichi tu? e l'ha detto anche il tuo amico dal CIN è vero il tuo amico dal CIN l'ha detto Bomber non resti esagerato poi ha detto no allora dal CIN ha detto delle cose che poi hanno fatto hanno usato solo una parte tra bisogno lui ha detto delle cose che c'era meglio difenderlo e ha cercato di lavorare perché la Reggiana pagasse meno d'affitto tra poi ma lui che cazzo gliene frega dal CIN insomma vuoi dire parliamo di cose serie domani sera finalmente la famiglia Granata potrà scoprire la nuova maglia ufficiale della Reggiana stagione 2022-23 domani ragazzi verrà presentata la maglia in anteprima mondiale cittadine mondiale in questo bellissimo evento che si farà alle Reggiane l'evento della presentazione della nuova squadra perché ci saranno anche i nuovi acquisti quindi non perdetevi questo evento noi ci saremo tutti gruppo Vandelli Testequare ci saranno tutti tra l'altro il Vandelli si trova prima credo Bomber dimmi tu che mi ha fatto un ritrovo alle 8.20 davanti all'Imps che dopo vanno vanno tutti insieme benissimo quindi ore 21 nell'area Capannone 18 parco innovazione un esempio straordinario di riqualificazione di un'area di un'area industriale area era l'ex della Reggiana dove c'è la Reggiana esatto e presenterà la serata la giornalista di Sky Sport Federica Lodi quindi male non fa perché è anche una bella gnocca ma la fanno la fanno la fanno all'interno o davanti Pratino? Sopra sopra il tetto sopra il tetto praticamente vedo che è molto sicura la cosa sì beh è un modo per risolvere il problema dei tifosi è già anche Cigarini lo metteranno nell'impalcatura perché deve ancora finire le infortuni no no fate di scherzo perché all'interno c'hanno il padiglione la fanno a piano terra ci avranno delle stanze non so ci saranno una stanza enorme mi capire lui mette il tifoso ma lei è un capannò o sarà mia una stanza come l'autocambra da letto? va beh no anche le grossa comunque ci troviamo tutti qua domani sera mi raccomando perché sarebbe un bellissimo evento faranno vedere sia la maglia granata che la maglia bianca perché noi abbiamo visto solo la nera che è la terza usata a Palermo quindi insomma sarà una bella cosa per vedere e poi di altre cose che dobbiamo dire ecco questo qua invece sono gli abbonamenti ad oggi sono 3054 io faccio i complimenti a tutti quelli che hanno dato questo abbonamento di fiducia la reggiana perché 3054 persone ieri dato ieri oggi saremo a 3100 comunque a ieri questo dato qua sono dei grandi complimenti a tutti quelli che l'han fatto andatevi a vedere anche le altre squadre serie B e serie C abbiamo fatto un bel risultato no ma è buono è buono voi pian pian vedrai che tra una cosa e l'altra tra i sport e i sport 4.000 ci arrivi quindi è un bel numero un bel numero insomma dobbiamo essere ancora più più uniti e fanno ancora di più vedete la campagna abbonamenti è aperta fino a sabato 3 settembre no io forse nella società andremo avanti un po' di più io sapevo che devono andare avanti almeno fino al 13 perché fai l'infrasettimanale col Tavernell no col Montevarchi il 14 di settembre se va a prolungarla credo che non sia un problema a prolungarla adesso o le me che me comunque si costa che le me che te ma anche guarda proprio fatica ecco quindi insomma c'è la reggiana in più c'è anche questa signorina qua l'andremo a vedere molto molto volentieri per il resto niente qua c'è la pagina della reggiana insomma tutti gli acquisti che hanno fatto eccetera ecco qua è un'altra cosa importante l'avrete già visto sicuramente la reggiana lucchese 14.30 perché hanno stilato gli orari delle prime 5 partite anche lì però posso dire una cosa 14.30 siamo i primi di settembre che se dovesse tornare fuori il caldo 14.30 ma sono dei geni proprio qui ci fanno giocare alle 8.30 a dicembre ormai sono cose che sono cose serie C se siamo serie C tu lo sai una delle mie più grande gioie quando sono uscito dallo stadio che la sede della promozione qual è stata? al di là dei due telecronisti che gli ho fatto pensavo a quello è stato vedere Ghirelli per l'ultima volta nella tribuna autorità che io sono andato via e ho detto oh lo vedo l'ultima volta perché dirige una categoria veramente non lo so ma veramente cioè senza alcune volte quindi comunque va bene 14.30 viene votato e letto regolarmente esatto dopo domenica 11 settembre andremo a Siena sempre alle 14 e ci sarò e ci sarò anch'io quindi se perdiamo sapete poi mercoledì dopo esattamente neanche due o tre giorni 14 settembre giocheremo con l'Aquila Montevarchi in casa alle ore 18 vedremo se la Reggiana e l'Aquila Montevarchi riusciranno a spostare l'evento se no lo faremo alle 18 lunedì 19 settembre quindi giocheremo in televisione alle 23 quindi l'hanno già deciso dici sì perché secondo me è tv perché non è 19 allora sarà la Rai siccome è su Rai questa partita può essere e sabato 24 settembre è già cambiato l'orario è già cambiato l'orario però qua a Reggiana Sandonato Tarver alle 17.30 quindi ma credo che Sandonato Tarver Denle debba prendere l'aereo quindi anche l'orario no scherzo comunque insomma questi sono gli orari che ci ha dato la Reggiana poi per varie comunicazioni state sempre aggiornati sulla pagina facebook di AC Reggiana 1919 che è qua e dove vi viene detto tutto e quindi non ci sono altre mettete anche un like sulla pagina che non va esatto mettete un like sulla pagina che il buon Marcello Tosi che ci sta dietro è bravo vi scriverà sempre tutto vi aggiornirà tutto ma toglietelo da altre 6 o 7 pagine di squadre toglietelo anche su FaceRage e aggiungetelo su Siregiana perché noi siamo dei cazzari noi ci togliamo i più like in questo momento facciamo una prova andate su Granate tirate un like perché noi siamo quelli che guardiamo se vi siete abbonati a Sassuolo togliete pure il like che voi andiamo a vedere a casa andrà Zucchi e vada a ritro Satana nell'intervista di stasera il presidente ha detto che la campagna abbonamenti finisce sabato ha detto così però secondo me potrebbero anche farla finire più amare finisce sabato ufficialmente finisce sabato forse in loro io lo manderei avanti ma c'erano 27 argomenti prima che ne parliamo dopo secondo me tira fuori un forse Vittorio Andreoli che salutiamo noto un fenomeno di modernizzazione di taluni tifosi pseudo della regia fanno noto naturale o artificiale no non lo so modernizzazione sì modernizzazione non so comunque ci chiedono se il bomber ha compiato il libro di Dalcin visto che è un tuo no non l'ho comprato non l'ho comprato adesso lo voglio dare mi ha fatto di rinimente così cosa le vado a comprare no ci chiedono una soluzione per gli abbonamenti io ragazzi ecco questa è pensare che dei mini abbonamenti non ci può essere una soluzione per chi viene da fuori reggio allora io sono dell'idea no abbonamenti no come diceva prima ci vorrebbe qualcosina di incentivo che ti dica se fai l'abbonamento ti do anche questo e tu lo fai teoricamente non dovrebbe farlo a prescindere però effettivamente incentiverebbe di più se ci fosse o le partite che vedi anche oppure qualcosa tipo la maglia come dicevo qualcosa di vabbè però conta che c'era la maglia la reggiana insomma c'è sempre un co soldi non ce lo possiamo permettere in questo momento io credo che in questo momento noi dobbiamo dare una maglia la reggiana facendo l'abbonamento e la reggiana debba per rispetto dei 3.000 4.000 5.000 che faranno l'abbonamento dire signori vi abbiamo dato modo per fare l'abbonamento per spendere 120 euro che sono 6 euro 7 euro a partita in curva sono 10 partite regalate a questo punto pagate il biglietto a me dispiace dirlo però ragazzi fate l'abbonamento perché sennò dopo è giusto che paghiate il biglietto quello si è giusto certo anzi io da abbonato mi incazzerei se durante la stagione dai degli sconti agli ai coach o fai 5 euro la curva vabbè e Sassuolo fa pagare il biglietto in una partita quanto costa 10 volte l'abbonamento quando gioca con la Juve e l'Inter quanto spendono per andare allo stadio 70 euro 80 euro per una partita ho fatto vedere gli abbonamenti il principio il marketing del Sassuolo è proprio quello faccio pagare l'abbonamento poco però se non paghi l'abbonamento ti rapino così i milanisti e gli interisti di Juventini fanno l'abbonamento io vi dico solo che ho visto grazie al bomber che ci ha fatto vedere la bancarella del Carpi che faceva gli abbonamenti in curva senza ridotto in Duscent in Duscent banani però il Carpi avrà un attaccante più forte ragazzi direi che i miglietti 20 euro e curva e i distinti di tracinetà di strano anche perché dai un premio a chi ha fatto l'abbonamento a chi ti ha dato i soldi prima per fiducia ti do la possibilità di farlo in due mesi che è un po' ferro comunque ragazzi io direi che questa trasmissione può finire qua doveva fare un'ora non ascoltate le voci che dicono che ci sono negatività non ci sono negatività tutto bene siamo tutti felici e contenti e siamo grandi perché ancora nonostante tutti i fallimenti le delusioni abbiamo già superato 3.000 abbonati arriveremo vicino ai 4.000 siamo una grande coseria che non c'è un po' che stasera sono i messaggi che non mi servono per niente da gente che c'è della delusione ma c'è della desonazione assolutamente tra l'altro abbiamo parlato anche anzi se voi devo andare allo stadio quanto parla l'abbiamo parlato prima da Ceri anche di comunicazione è vero abbiamo immagini di miglioramento enormi però domani facciamo una festa alle Reggiane dove comunque poche volte la Reggiane è stata presentata in maniera così bella anche con una giornata di Sky Sport vedete che pian piano si farà tutto diamogli una mano e la trasmette vedete il colore ci sarà sicuramente sicuramente o anche Telereggio sicuro però venite venite là perché il bello è insomma essere lì con tutti noi i diffusi vedete il bomber non è che dal vivo il bomber ragazzi è tutta un'altra cosa voi lo vedete qua il bomber ma dal vivo è un gran pezzo di me la c'è il ferro quando lo vedete dategli dategli uno schiaffo comunque domani ci saremo tutti io il bomber c'è a Rino perché a Berlino ci sarà a Cavazzo io sono a Siena perché mi ricorderò dei tempi passati in cui entrarono in campo lui si muove sempre nei giorni strani una bella una bella giornata di sport quella di Siena quando ci andai io a Siena datata 11 settembre perfetto a posto chiudiamo con questo messaggio Davide Amaino bentornati ragazzi un saluto dai Garda e buon campionato Dale Regia grande 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 e allora chiudiamo grazie mille per averci seguito è stata una puntata un po' così dai facciamo aspettando è un aspettando questo aspettando Severi Maggiusti partiremo ufficialmente con tutti tutta la compagine di Severi Maggiusti c'era anche il cavo a Zolmi eccetera dalla prossima settimana ogni mercoledì per l'ottavo anno consecutivo alle ore 21.10 saremo sempre tutti i mercoledì con voi e promettiamo grandi cazzate anche quest'anno sicuro grandi ospiti soprattutto papale papale inviati specialissimi tra l'altro esatto faremo uno qualche anticipo anche noi perché quando giochiamo i mercoledì io non possiamo fare la di mercoledì stavo appunto dicendo che se la reggiana dovesse giocare di mercoledì la faremo o di lunedì e poi anche di giovedì oppure non la faremo proprio perché Bomber ci sta sui coglioni quindi vedremo qual andrebbe il tempo buonanotte Bomber buonanotte buonanotte a tutti e forza Regia comunque quella papera lì in alto sulla tua sinistra ti sta da Dio ti ha sommato il logo di StreamYard salutiamo buonanotte Cerri buonanotte a tutti è sempre forza Regia ci vediamo speriamo 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 di portare a casa i primi tre punti e tocchiamoci grazie mille a tutti per quelli che ci hanno ascoltato e guardato l'ultima notizia di mercato ultima notizia di mercato dacci la bomba la bomba del bomber una bomba alla pedullà alla pedullà una è che va bene tutto ma racconta qualcosa racconta qualcosa tanto fanno così i giornalisti siamo vicini all'acquisto di Re Davide torna la Regia allora siamo molto vicini compriamo anche una seconda punta ragazzi attenzione seconda punta seconda punta poi portiere ma chi è? perché dobbiamo averne quattro dacci la bomba secondo me secondo me a parte la prima punta secondo me sì con la poliglia basta cioè basta c'entra avanti e ci vuole esterno sinistro sicuramente bene grazie mille per averci ascoltato sull'occasione di Facebook nel 2019 vi aspettiamo tutti no, non è niente non mi è fuori niente vi aspettiamo tutti domani alle ore 21 con la presentazione delle nuove maglie al come si chiama? non mi ricordo più al padiglione all'ex Reggiani 18 Reggiani Reggiani padiglione magazzino 18 saremo tutti lì e ci vedremo anche domenica per Reggiana Lucchese mi raccomando Luca Merda state con noi e anche Parma Merda Bomber no, no Parma Merda sempre bene ci sono una merda